Ciao super belli, come state? Ancora un po' delusi da tutto quello che è accaduto ieri. Per me non è cambiato niente, ripeto, sono molto deluso, non sono arrabbiato, mi ero arrabbiato durante la partita, ora non lo sono più, sono solamente molto, ripeto, molto deluso da tutto quello che abbiamo visto e dall'approccio che abbiamo usato. Minuti iniziali buoni, sia del primo che del secondo tempo, poi siamo persi completamente come nostro solito e ormai sta diventando una costante, questa è la cosa più preoccupante, quindi accettiamolo e fine, facciamo di necessità virtù. E portiamoci a casa a questo punto, portiamoci a casa a questo punto e vediamo dove ci porta un po' questa rincorsa, scudetto che secondo me sempre di più si sta trasformando in una corsa al quarto posto, però vediamo. Spero di sbagliarmi, spero di essere negativo io come lo sono da un po', non ve l'ho mai nascosto, ma ovviamente finché non c'è la matematica va bene, crediamoci, speriamoci, vediamo dove ci porta il cuore. Prima di cominciare c'è OneFootball, il cuore ci porta lì a scaricare l'applicazione per comunque essere un po' più preparati, magari capire quanti infortunati, quanti squalificati, quanti decessi, quanti giocatori riusciranno a risuscitare per le prossime partite, quindi OneFootball se volete essere aggiornati in tempo reale, almeno su questa piccola curiosità legata alle tante assenze juventine. È gratis, ve lo consiglio. Pagelle che non sono nemmeno facilissime da fare oggi, se proprio devo essere sincero, non vorrei rovinarmi e rovinarvi la domenica. Scesni è stato forse uno dei migliori in campo, l'Ellas Verona ha beccato pure due pali, se proprio dobbiamo dire le cose come stanno, e siamo stati scialvati, salvati da Scesni, avevo unito le due parole, in tutte e due le occasioni dove ci ha messo la mano, dove ha portato comunque a casa almeno il legno, quindicesimo stagionale dicevano per l'Ellas, quindi un buon numero di legni colpiti da l'Ellas Verona. Ragazzi, sì, Scesni avrà fatto anche qualche errore, mi ha dato particolarmente fastidio quando in un caso particolare con un rinvio con i piedi si è messo pure a ridere, però ieri sera ci ha veramente salvato il sederino, e ripeto uno dei migliori in campo con sei e mezzo, quindi vi faccio immaginare un po' il resto delle pagelle dove voglio andare a parare. Demirà al male, Demirà molto male. Ora, leggo che addirittura il gol che abbiamo subito nasce da una sua uscita in disimpegno errata, non l'ho visto, non me lo ricordo, sono sincero, ho provato anche a cercare gli highlights della serie A sul canale ufficiale di YouTube e non si vede questa cosa, quindi la lascio fuori, non voglio commentare qualcosa che non ho visto soltanto letto. Ma male, disordinato in tutte le uscite, Zaccagni in più di un'occasione l'ha puntato in velocità e Demirà ci ha messo una pezza ogni tanto, ma l'ha sofferto tantissimo. E' un'altra cosa che torno a dire, davvero male, male, male quando si deve partire da dietro con Demirà, è un giocatore che non ce l'ha, non ce l'ha nelle sue caratteristiche, quello di giocare il pallone da dietro e far iniziare l'azione in maniera fluida, no, non ce l'ha, è inutile che stiamo qua raccontarcela, ieri sera si sono visti tanti limiti a livello tecnico proprio di Demirà, che ha tantissime altre caratteristiche super positive, ma non quelle di toccare bene il pallone in maniera elegante. Ci sta, ci sta, ed è una roba che sto continuando a ribadire da un po', non possiamo fare le torte con i gamberetti, ragazzi, se devi fare la torta ti serva l'uovo, la farina, il latte, se hai i gamberetti e la panna da cucina ti fai un risotto al massimo, non ti puoi fare una torta. Adeguiamoci a capire che abbiamo alcuni giocatori che quel tipo di gioco bellissimo, sconveggiante, moderno, europeo, indomito, non lo possono fare o comunque in questo momento non lo possono fare. Accettiamo il fatto che queste partite serviranno magari a questi giocatori per impararlo, ma un domani non c'è tutto e non c'è tutto subito, è inutile che ci prendiamo in giro dopo tanti mesi che vediamo la Juve, queste sono considerazioni che vanno fatte. Male anche Alexandre in occasione del gol che abbiamo subito, una brutta scalata, quella di Alexandre nel complesso non era neanche andato malissimo, secondo me era stata una partita abbastanza sufficiente, quello lì è un puntino rosso, un pallino rosso che si porta dietro, quindi voglio dare insufficienza 5 anche ad Alexandre. Sedlit che ha lottato molto bene con Lasagna, non ha particolari colpe nemmeno d'Elite, però certo è che la difesa ieri sera è stata un po' ballerina, una difesa a 3, cioè non c'era tanto lo scalo, no, a 3, fissi a 3, inedita anche, un po' bizzarra se vogliamo, con Benton passava quello ieri sera, so che poi Pirlo ha avuto anche un po' da criticare dicendo ragazzi eravano quelli lì, eh sì eravano quelli lì, cioè c'è poco da fare eravano quelli lì, però ribadisco ancora la cosa che ho detto ieri sera, la Juventus fino a un quarto d'ora alla fine stava vincendo 1-0, anche con quelli lì, e se queste partite dove non stai bene, dove la panchina è corta, dove tante 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 cose, le Juventus cannibali, quelle che annusano l'odore del sangue degli avversari che vogliano vincere i scudetti, quelle partite lì sporche, le vincevano semplicemente, e questa è un'ennesima conferma secondo me, che questa in questo momento non è una squadra da scudetto, ma non succede niente, quante volte ho detto che non vincere lo scudetto quest'anno non sarebbe stato un fallimento, quanto più un dispiacere, l'ennesima delusione, dopo 9 di fila non alzare il decimo, ma è la ciliegina sulla torta come si suol dire, ci siamo divertiti tanti in questi anni, speriamo di portare a casa altri due trofei nei quali possiamo ancora dire la nostra, soprattutto in Coppa Italia perché non si è ancora giocata, sono 90 minuti e in Champions League ci sarà una rimonta da fare che per quanto mi riguarda è molto più facile rimontare in Champions League in questo momento qui in campionato, proprio perché si tratta di 90 minuti, vediamo, ormai è un vediamo continuo, è un vediamo continuo Chiesa, Chiesa l'unico probabilmente, sembra un copy and call di tante altre pagelle che ci ha provato, che ci prova, che ci mette la sua, che prova a saltare l'uomo, prova ad andare in velocità, secondo me ha fatto una partita da 6 e mezzo, anche se ha avuto l'assist del gol che poteva essere il gol vittorio di Cristiano Ronaldo, devo dire la verità, avevamo due fasce Chiesa e Bernardeschi, una magari un po' più tecnica come Bernardeschi, una più dinamica come Chiesa e il dinamismo si è visto soprattutto quando Chiesa portava il pallone o quando si lanciava negli spazi, poi siamo un po' spreconi, siamo un po' spreconi perché quando arriviamo a mettere un cross che può essere un cross fatto bene, magari lo sporchiamo, magari esce male, magari non siamo con le tempistiche giuste, sono tanti meccanismi che in teoria dovrebbero essere oliati ormai, ma ci fa vedere che in questo momento storico siamo indietro a livello di condizione fisica, siamo giù, siamo giù, quindi Chiesa un altro dei migliori in campo 6 e mezzo, Bernardeschi non mi è piaciuto, e adesso farò un discorso legato a Bernardeschi, Ramsey, Rabiot e Bentancur li coinvolge un po' tutti e anche Kuruseschi, li metto in mezzo tutti, do a tutti tra il 5 e il 5 e mezzo, non voglio andare a dire questo 5 e questo 5 e mezzo, ve li lascio a voi, ve ve li lascio a voi e vi do una motivazione unica su questo blocco di giocatori, non cambiamo mai la marcia, ragazzi sembra di avere una macchina col cambio manuale che dopo che parte in prima, magari va in seconda, in terza fa fatica, in quarta, in quinta, in sesta non ci arriva, ci blocchiamo tra la prima, la seconda e la terza marcia e allora andiamo ai 40, 50, 60 km all'ora, se no si ingolfa il motore e scoppia tutto, non andiamo, non andiamo, non riusciamo a cambiare marcia, non riusciamo a cambiare passo, ma com'è possibile questa cosa? C'è stato un momento in cui veramente nel primo tempo Rabiot e Bentancur che erano sulla stessa linea, si sono fatti saltare con un 1-2 e quindi l'Elas Verona ha avuto una ripartenza perfetta e pulita, campo aperto, mentre guardava la porta, perché? Perché si sono fatti saltare come dei polli sulla stessa linea, avete mai visto quando prendono la corda, legano i difensori e fanno salire e scendere la linea 4, gli fan fare le diagonali? Noi quella cosa lì la dobbiamo fare con il centrocampo, perché non è possibile che un centrocampo si faccia saltare con un 1-2 e che poi dietro ci siano soltanto tre, tre Cristi poveretti che poi si prendono i nomi perché sono quelli che magari fanno gli errori, ma perché su non c'è il filtro, o perché i nostri esterni non sono terzini perché tutti morti, eh vabbè, allora un po' di attenzione in più, ieri sera era la serata veramente giusta per giocare solo in ripartenza, solo in ripartenza, io non vi piacerà, non vi piacerà, ma non ci posso fare niente, io la Juve migliore che ho visto negli ultimi tempi è quella che gioca in ripartenza, perché si è Rabiot che Ben Concur, non sono giocatori che fanno gioco, sono giocatori che una volta che recuperano il pallone hanno questa bella progressione, anche se vogliamo palla al piede, non hanno il tiro dalla distanza, devono aprire, va bene, apriranno, gli esterni metteranno un cross, o si andrà nell'uno contro uno all'interno dell'area di rigore, per via del trequartista, la seconda punta, l'attaccante che la va a ricevere, non siamo in grado di giocare a calcio facendo la partita noi, non lo sappiamo fare, non lo sappiamo fare, con i giocatori che abbiamo in questo momento magari, con i giocatori che sono in forma ad oggi, forma, forma, del resto non sappiamo farlo, possiamo dire quello che vogliamo, ma la verità è questa, nuda, cruda, fa male, fa malissimo, e cosa ci possiamo fare? Continuiamo a specchiarci all'interno del lago, vedendo il cigno ma siamo il brutto anatroccolo, e ragazzi siamo questi, in questo momento di difficoltà dobbiamo adeguarci, fare di necessità virtù, ammettere che in questo momento non siamo una squadra forte, una grandissima squadra, non siamo più la Juventus degli ultimi anni, e che se vogliamo finire dignitosamente questa stagione in Serie A, dobbiamo rassegnarci a un'idea, perché quest'idea, per quanto bella, efficace, a tratti, per quanto stimolante, per quanto veramente stupenda da immaginarci, ad oggi non ci sono le condizioni di farla. Semplice e banale. Ramsey, per dire, è uno che ieri il gol nasce da una sua giocata, da una sua intuizione, da una sua genialata, che dà un pallone bellissimo secondo me a Chiesa in verticale, e Chiesa lo sfrutta bene perché facciamo gol, ma non si può vivere a uno spunto a partita, due spunti a partita, e poi il resto nulla, il deserto. Kulusevski è uno che quando ha la palla tra i piedi, magari ti fa il dribbling più bello che tu abbia mai visto, ma i 5 dopo te li sbaglia. Bernardeschi è uno che è incazza inciampato nella bandierina del fallo laterale ieri sera, e io avevo due occhi che mi uscivano dalle orbite per il nervoso. Rabia e Bentancur, sono due giocatori che con di fianco Arthur vanno da Dio, e insieme no! Siamo anche sfortunati, è quello che va detto, perché non ci stava l'immortunio di Arthur. Però ragazzi siamo... adesso siamo messi male, non ci sono tante altre cose da fare. E questi giocatori mi fanno il compitino, e se permettetene la Juventus, da 9 anni campione d'Italia, con due finali di Champions League giocate nell'arco dei 9 anni, con non so quanti trofei, con Cristiano Ronaldo e Rosa, con un progetto di ripartenza dai giovani dalla fame e dalla voglia, vedere la gente che la fame e la voglia non ce l'ha e non mi cambia marcia, mi fa venire un nervoso che la metà basta. Non ci crediamo, l'ho detto ieri sera nel titolo, l'ho detto ieri sera nel titolo del video, sembra quasi che questa Juventus non ci creda, cioè ci crediamo più noi che loro? O semplicemente ci credono ma il loro fisico non ce la fa più, non sta reggendo certi ritmi di partite? Può essere, abbiamo giocato 200 partite nel giro di un mese, può essere che il fisico non regga, non si è mai vista nella storia del calcio, una roba del genere che ogni tre giorni si è costretto a giocare, però è anche vero che fino al 21 marzo, dove abbiamo stipulato il Road to Benevento, non ci sono pause e quando ci sarà pausa ci saranno le nazionali, quindi non ci si ferma, quest'anno non ci si ferma, mettiamocelo in testa, facciamo un respirone, accettiamolo e cerchiamo, dato che in questo momento non siamo brillantissimi, di fare delle partite da squadra non brillantissime, ma che deve portare a casa dei risultati, perché sul rotto crotone c'era un punto in meno, che era quello con il Napoli, va bene, sul rotto Benevento si hanno già tre punti in meno, sui due Road to, e ci mancano quattro, cinque partite ancora in Serie A, sul secondo sono già quattro punti che ti mangi, e quattro punti non sono mica pochi, perché poi vai a vedere la classifica, cosa si è arrivato? A 85, però le altre sono arrivati a 88, questi quattro punti è perso lo scudetto. Cioè, è matematica, non è che stiamo, vabbè, solo uno di là e tre di qua, e sono quattro punti. In aggiunta a tutti quelli che avevano già perso l'andata. Ronaldo, 6 e mezzo, che si è fatto trovare presente per il gol, perché volendo anche ci ha provato con qualche giocata individuale, però inefficace, e che cazzo di colpa ne ha Ronaldo, non gli arriva un pallone che sia uno, gli è arrivato uno veramente giocabile, ha fatto gol, appio di così, questo cristiano, può fare poco. I cambi, cambi, McKennie, McKennie, che è entrato ed è un altro che non è riuscito a dare la spinta in più, quante volte ci siamo trovati a dirci che ultimamente McKennie non è McKennie, non sta bene, ragazzi, non sta bene, quante volte ce l'ha detto Pirlo, è inutile che ci indigniamo perché McKennie non è titolare, anche quando entra McKennie non è McKennie adesso, non sta bene, tutte queste partite unedietro l'altra hanno disintegrato la squadra, quei pochi che sono rimasti non stanno bene e quelli che stavano bene sono infortunati, e uno c'ha il virus, e uno c'ha il covid, e uno c'ha la caghetta, e uno non chiede che gli è uscito dalla testa, non stiamo bene, non stiamo bene, e capisco che non stiamo bene, ma capisco anche che non è che ci possiamo fermare perché non stiamo bene, McKennie entra e non dà quello che può dare McKennie, non è colpa di McKennie, non è colpa di Pirlo, non è colpa mia, colpa di nessuno, però questo è quanto, di Pardo non lo valutiamo neanche, McKennie 5 e mezzo, stesso discorso degli altri, non mi ha cambiato marcia, di Pardo non lo valutiamo, e Pirlo, anche qua, che possiamo dire di Pirlo, Poraccio, è l'unica colpa tra virgolette che può avere, secondo me, quella di non essersi venduto troppo, e per venduto troppo intendo accettare e giocare alla vecchia maniera, all'italiana, tutti chiusi, non voglio prendere gol, e vado solo di ripartenze, che è una bruttezza atomica da vedere, perché è veramente una roba brutta, soprattutto se è Cristiano Ronaldo, e Cristiano Ronaldo non è proprio contento di giocare in questo modo, mi viene a dire, anche ha ragione, però non vedo altre soluzioni in questo momento, sinceramente, finché la squadra non recupera degli infortunati, finché la squadra non recupera degli squalificati, finché la squadra non recupera delle energie, finché la squadra non recupera della grinta, della volontà, della consapevolezza e della fiducia, io vedo questa come unica possibilità. La vogliamo fare? Bene, aspettiamoci le critiche, perché la Juve gioca male, perché nonostante si vinca si gioca male, come era successo con la Roma, non lo vogliamo fare, vogliamo provare a fare e non ci riusciamo, accettiamo che non si vince come con l'Ellas, ragazzi, le strade sono due, adesso non è che ci possiamo prendere tanto in giro, proviamo a giocare e non ci riusciamo e lasciando i punti per strada, siamo umili con noi stessi, diciamo che non stiamo bene, non siamo in forma, non ce la possiamo fare e proviamo a recuperare e salvare il salvabile. Ditemelo voi, vedete quanta delusione c'è nelle mie parole, però c'è anche tanta sincerità, tanta sincerità perché eravamo partiti quest'anno con tutti altri piani, tutte altre ambizioni, tutt'altro pensiero di vedere una Juve diversa da quella che si era vista negli ultimi anni, però questo adesso io so che tanti addirittura hanno odiato Allegri perché ha rovinato la Juventus, però forse hanno anche un po' la memoria corta, perché Allegri quando aveva una squadra forte, e mi riferisco proprio all'anno di Berlino o anche gli altri due anni dopo, la Juventus giocava, Juventus giocava a calcio, c'è poco da dire, Juventus giocava a calcio, nelle ultime due stagioni di Allegri quando la qualità della Rosa magari è stato a calare e non ce ne eravano nemmeno accorti, perché probabilmente nemmeno io me ne ero accorto che il l'ultimo, il penultimo anno di Allegri era calato qualcosa a livello qualitativo, però è calato e forse in questa stagione siamo calati ancora di più perché siamo andati a investire sui giovani sperando che un domani questi giovani possano salvarci, ma quando si è abbassata la qualità della Rosa, Allegri cosa ha fatto? Questo ragionamento che vi ho fatto adesso, non siamo in grado di giocare come abbiamo giocato i primi anni, perché i i giocatori sono più scarsi, allora cosa facciamo? Facciamo giocare gli altri e noi giochiamo per cercare di subire il meno possibile e vedrai che un gol lo facciamo. Voglio sapere la vostra acquistata nei commenti, buona domenica!